Ciao a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti a questo nuovo gameplay sul secondo canale Oggi che cosa faremo? Che cosa faremo in questo video? Continueremo la partita che abbiamo iniziato con Doom 3 Ho già fatto un gameplay, se non avete visto il primo video ve lo lascio giù nella descrizione Quindi mi raccomando andatevelo a vedere per chi non conosce il gioco eccetera eccetera Se lo andasse a guardare, quindi niente Carichiamo la partita Carichiamo Bene, eccoci qui Iniziamo subito la bomba No, ma che si faceva? No, sì Dov'è l'arma? No, i pugni, Gesù Ah, è sbagliato, è sbagliato C'è tua, questa ghiaccia immonda Ma perché mi dai... E voglio l'arma, gribbio Tu sei brutto Zio, c'hai la patta aperta Allontanatevi Com'è che si correva? Chi è? Veloce Lui si è rampicato senza sole alle mani Allora, dimmi che cosa hai fatto la notte del 4-8-1913 Ti prego Va bene Non ci penso proprio Rimango qui Eh, resta qui Vaffanculo Ecco, ok Ah, grazie per la scala Capo Armature Armature E tu le monti Garzoni E si va e si va di casa Ah, che bello Qua hanno fatto festa Chi era? Io sentivo una affiatata Che cazzo era quella affiatata? Non mi piace per niente Chi è? Ahia, ahia Sono troppi Li sento Eccolo Stronza Ah 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 Perché tutti con me ce ne vede Ma fa il culo Un PDA Poi lo leggeremo Sfidanto a voi non ve ne frega niente Non mi piace Marichitta Brutto Aio Che palle Eh, pardon Brutta Mi piace Mitraglietto Le mitraglietto S'aggiparissima Aron Che bello Chi è? Ah Ah Cribbio Nuovo oggetto Che ho preso? Oddio Adesso viene qui Quel mostraccio Dammi l'arma Di Gesù Quali sono i miei ori? Passano Otto Wilson Vi parla il sergente Kelly Ah Ah Non troverò Postati al punto di incontro più vicino e mantieni la posizione Ti troveremo Va bene E che palle E vattene Ok Che croce Chi è quello? C'è un robotino stranissimo Oh Sta ammazzando tutti Vai robotino Ammazzali tutti Vai Sto in festissima Dove vai? Robotino? Gesù Se ne sta andando Un botino Che palle Aia Aia Ma perché mi dai bui? Gesù Perché è uscito? Guarda Questa merda Ecco Ma vedete il fucile Gesù Ah Uh 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 Dove sei? Ah Dove sei? Vieni 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 Perché ci manca di sparo in faccia Hai capito? Perché mi dai questo? No No E non mi puoi fare le poste così però Aia Aia Mi ammazzano tutti Ecco E lui sbaglia Gesù Che ammazza pugni Dai dai prendimi Senza testa fa rumore È incredibile questa cosa Veramente non l'ho mai vista Interessantissimo Non so proprio cosa fare Chi è? Cosa sono queste cose? Ma chi è che parla? Chi è? Gesù Maledizione Aia 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 Sarola Dove sei? Aaaaa Aaaaa Vieni Vieni Da bestiaccia Sei morto Vero? Sono felicissimo di questo Sì sì Vieni 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 Da dentro Oh C'è un ciccione qui eh Ciao ciccions Ciccions Guarda ciccions Quanto è brutto ciccions Aaaaa Cazzarola E Pesci E Pesci Pesci Fermieria Ma che Uh Com'è buio qui Ah Mi serve l'armadietto Devo legger BDA Aspettate un secondo Qua Dice Non si sa Va bene Aia 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 Fa Culeccio Zuzzo Chi è Ne ho anche per te Ne ho anche per te Sto affettando di merda Vieni Dove sei Aaaaa Chi è Ma che cazzo Vieni Vieni Che ti sfondo Oh Non mi piace No 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 Armi e medichitto E' lì No Perché Tutti cattivi Che cazzo è quello Ma hai ammazzato Ma hai ammazzato il soldato davanti agli occhi Sei un fame fracico Dove vado Richiesta di collegamento video Tutti morti Richiesta di collegamento video Proviamo ad andare di qua Che c'è Stai Chiuso Mannaggia Mannaggia Spacco tutto Ho capito Richiesta di collegamento video Ho capito Ora 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 Centro Comunicazione Richiesta di collegamento video Connessione stabilita Oh che bello Wei compà Posso credere che tu sia ancora vivo Eh so forte Non riesco a tornare a Mars City Beh problema tuo Molto gentile Che Che Titino al santissimo Di girare il codice segreto Non lo so Non lo so Oddio Questa non si apre Abbiamo detto Allora se andrà Di Vado Ammi le armi È tutto buio Eh Vabbè Adesso hai aperto A me andrà a prendere le armi Perché se fa buio Quando arrivo io Ah Non fai troppo casino Per i miei gusti amico Ma che cazzo fa Mi dai la pistola Mannaggia A me andrà a prendere le armi Ah Che cazzo Wow A dove Oh Tutto bastardo Sei morto Abbiamo Abbiamo solo la pistola Ma che cazzo fa buio Aia Con la faccia nera Che cazzo Chi è Che cazzo Che cazzo Che cazzo Che cazzo Che cazzo fa buio Che cazzo fa buio Io vorrei capire Dove devo andare Non ci sto capendo Una merita mazza Ah Gesù cristiano E' ancora morto E' ancora morto Infermeria Comando Niente Io non so Dove devo andare Ah T'ho visto Vieni Vieni Morto Marine Se incontri qualche robot sentinella Ancora funzionante Usalo Quegli affari Hanno un'incredibile potenza di fuoco Che palle La UAC La UAC mi hai fatto cagare addosso E' mappa Chi è Aia Senti Senti Eh si T'ho capito Aspetta Non te ne andai Aspetta Devo fare un giro Veloce Che palle Che cazzo Vai adesso Si si Immazza Lo deve Vai Chi non c'è niente Ma che fai Scappi U U U U U Marine raggiungi Tutta la squadra Bravo Hanno bisogno Di tutta la potenza Di fuoco Inviare quel messaggio essenziale per la nostra sopravvivenza. Sì? Dove si va? Armi, armi. Sì, sì, sì. Sono felicissimo di questo. Sì, sì, ho capito, capo. Dammi te. Che palle. Dove andiamo? Che fai? Mi guardi? Aspetta, fammi pazzare. Ma chi è che parla? Assurdo. Ah, vabbè. Oddio, è quello? Ah, non fai lo strozzo, guarda. Tira! Ah! Oh! Uh, uh, uh. Tettinella! Ah, ah, certo. Sì, sì, sì. Ma che cazzo fai di specie? Ah, di specie! Ma guarda, dove si va? Uh, scaletta. È fissa. Che serve questa scaletta? Inutile. Ah, si va qua sopra? Che figo! Che figo, figo, figo! Figia, benissimo. Figia. Benissimo. Torniamo giù. Dove vado? C'era una porta qui da aprire? Qua ci è esapvenuto. Tutu, 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 va bene. Scendiamo giù. Bene, anche questa è andata. Io direi che possiamo finire qui. Ci vediamo alla prossima. A presto. Chi vediamo alla prossima. Grazie.